Musica Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il nostro programma di approfondimento. Questa volta ci occupiamo di un argomento di stringente attualità, come dicono i giornalisti, quelli bravi. E per parlarne abbiamo con ospite nuovamente, incontrati qualche settimana fa, abbiamo nuovamente con noi Totò Burrafato, giornalista, scrittore, editorialista, pensatore. Però purtroppo dobbiamo andare proprio sul personale, l'argomento di oggi è il 41 bis, il carcere duro, le reprimenda che arrivano all'Unione Europea, le polemiche di questi giorni sul caso Cospito, l'anarchico che da più di 100 giorni fa lo sciopero della fame per essere sottratto a questo regime carcerario. Però invece che parlarne con avvocati, giuristi e con sapienti, abbiamo chiesto a Totò un piccolo sacrificio, anzi un sacrificio enorme. Perché se ci sono dei boss reclusi in carcere con il fine penamai e qualcuno, dal punto di vista umano, ha legittimamente la tentazione di smussare le pene che i boss in carcere siano terroristi, i boss poco importa sinceramente per la nostra analisi. In realtà c'è chi il fine penamai lo sconta quotidianamente sulla propria pelle. Ed è il caso di Totò, scusami Totò se ti introduco in questa maniera un po' brutale, perché il fine penamai di Totò Burrafato, come quello di tanti altri parenti di vittime di mafia, è avere perso un caro per mano mafiosa. Cosa si prova a vedere questi pop corn mediatici che saltellano la gente e tutti diventano improvvisamente esperti, senza rendersi conto che alla fine se un boss sta in carcere è perché ha ordinato omicidi, ha fatto delle stragi. Il figlio di una vittima della mafia, come vive sulla propria pelle tutto questo bayam mediatico? Perdonami se sembra un po' brutale, ma io credo che la tua testimonianza, come le testimonianze di Sonia Alfano, di Tiramontinalo, sono quelle che dovremmo ascoltare per capire che cosa è il carcere duro e cosa significa nei confronti della società e di chi ha subito un danno irrecuperabile. Grazie Piero. Penso che bisogna partire dal sottotitolo di questa puntata, il 41 bis non si tocca. Non si tocca non perché lo dico io, perché lo strilla qualcuno, perché qualcuno ci vuole ricamare su, ma perché l'idea del 41 bis è stata un'idea che in qualche maniera ha contribuito significaticamente, assieme a tante altre cose, alla stagione delle lenzuola, alla stagione della repressione, alla stagione dell'impegno nelle scuole sul fronte della legabilità, a portarci sino ad oggi. Oggi mettere in discussione uno dei capisaldi della lotta alla mafia mi sembra davvero irragionevole e immotivato. Fatta questa premessa sul fronte politico, io poi... Sul piano umano. Facciamo un esempio concreto. L'omicidio di tuo papà, il papà di tuo Abburrafato era il maresciallo Antonio Abburrafato, ucciso davanti a casa, mentre andava a lavorare. Il maresciallo della guardia penitenziaria, esattamente 40 anni fa e mezzo. Infatti voglio dire, lascio da parte le considerazioni che prendono in queste ore, che ci fanno diventare tutti esperti in ordinamento penitenziario, così come diventiamo tutti tifosi di calcio, allenatori quando ci sono i campionati del mondo di calcio, ci riporta a questa situazione. Io la guardo con estrema ragionevolezza, ma col cuore in lacrime. Nel senso che io per 40 anni continuo a portarmi dietro il fardello della morte di mio padre, che ha segnato irreversibilmente la mia vita. Per 20 anni ho inseguito la verità, una verità che poi mi è stata consegnata dalle aule di giustizia e che è stato accompagnato da questa misura. Gli assassini di mio padre, il mandante dell'omicidio di mio padre, è ricoverato al 41 bis in un calcere del centro Italia. E io fino a qualche settimana fa, a me se fa, non è che godevo di questo dato, ma ritenevo che lo Stato alla fine avesse raggiunto il suo obiettivo avendo fatto piena giustizia e avendo messo anche un punto fermo sul fatto che da quel momento in poi tu non avrai rapporti col mondo esterno. Perché questo è il dato su cui noi ci dovremmo concentrare. Il 41 bis è che è stato creato per evitare che continuassero a comandare al carcere. Il 41 bis è, in un momento specifico nel quale io ti metto dentro perché ti scopro colpevole di questo, di quel delitto, tu non devi avere più rapporti col mondo esterno e soprattutto non devi continuare a esercitare la tua capacità di indirizzo dell'azione malavitosa e criminale. Come faccio? Mettendoti una serie di misure che ti isolano dal mondo esterno. È chiaro che poi diventa difficile perché il mondo carcerario è un mondo friabile, ci sono uomini e donne che fanno questo lavoro con grande impegno e con grande diridizione e meriterebbero maggiore attenzione. Ma la misura straordinaria serve ad evitare che tu continui a comandare. Tu hai dato comunque un punto di riferimento, cioè hai tracciato un foco importante. Tra le righe mi sembra di capire che una delle tue elementazioni è il fatto che del sistema carcerario se ne parla soltanto quando diventa argomento di grande presa mediatica. In realtà quotidianamente a nessuno frega nulla di quello che succede nelle carceri. È indubbio. Però prima di arrivare a questo argomento che vorrei, visto la tua esperienza familiare, di parlarcene, io ti vorrei fare arrivare a una piccola riflessione sul perché è importante l'applicazione del 41 bis ai boss mafiosi. Io ricordo che quest'anno quando c'è stata la celebrazione dell'anniversario della morte di tuo papà, ci siamo incontrati tutti a Termini Merese, sul palco c'era il procuratore di Palermo, allora non si era ancora insediato Maurizio Lucia, ma c'era anche Lirio Abbate ai tempi direttore dell'Espresso che a un certo punto fece una rivelazione abbastanza dura che ci spiega perché funzionava, il 41 bis è importante e va mantenuto. Cosa ti raccontò di inedito Abbate in quel frangente? A distanza di tanti anni però oltretutto. Devo dire che Lirio Abbate non l'ha mandato a dire ed è venuto a dirmela lì davanti. E' venuto lì a dirmelo davanti e prendendomi alla sprovvista dinanzi a tanti amici e a una comunità che si era raccolta in onore di mio padre, mi disse che dalle carceri Leo Luca Bagarella voleva sapere, non certo il libro, ma voleva sintetizzato il contenuto di quel libro per sapere che cosa ci fosse scritto e a che cosa io avessi ispirato il mio racconto sul mio padre. Parliamo non del libro tutta un'altra storia, ma del libro... Un omicidio dimenticato, quello che tu hai scritto insieme al collega Vincenzo Bonadonna. Assieme a Vincenzo Bonadonna e Nicola Sfragano. Vi renderete conto, ci rendiamo conto che ci sono due questioni che non funzionano. Il primo è che dentro le carceri si sapesse che io avevo scritto un libro e dall'altro lato l'interesse è reale a saperne di più su quel libro. E questo dice... Ma secondo me questo è proprio paradigmatico della motivazione del 41 bis. Cioè se il boss mafioso non viene impedito di comandare con misure estreme, perché diciamoci francamente il 41 bis è una misura estrema, ma la lotta che ha fatto Cosa Nostra allo Stato è stata una lotta estrema, quindi come dire è simmetrico. E' chiaro che poi ci sono delle cose sulle quali io personalmente mi riservo di dire la mia. Cioè voglio dire, utilizzare il 41 bis per gli scafisti o per qualche altro reato a me mi sembra un po' un'aberrazione, ma io non voglio addentrarmi sotto il profilo delle delle questioni giuridiche e penitenziarie. Però poi, ecco, da questo punto di vista poi io mi pongo in punta di osservatore interessato che ha vissuto questa vicenda sulla sua pelle. C'è una questione umanitaria che si innesta nel carcere duro, nelle misure restrittive, nell'isolamento forzato. Devo dire che qualche profilo l'Unione Europea l'ha messa insieme a qualche incostituzione che è stata rilevata, qualche tentativo di aggiustare il tiro c'è stato, ma io ritengo che in un momento particolare nel quale lo Stato era sotto scacco ed era messo in un angolo e aveva bisogno di reagire e di dimostrare con tutta la sua autorevolezza ci poteva stare quella misura, ci sta ancora ad oggi. Non va sicuramente allargata a macchia d'olio e a macchia di leopardo in maniera quasi da spot per fare lo Stato forte, io l'allargo oggi a questo reato e l'allargo... Sostanzialmente la tua posizione, il 41 bis non si tocca, però di fronte a fattispecie particolari, è chiaro che bisogna rimodulare anche l'intensità della misura. Però è anche vero, scusami se ti interrompo, non è una fattispecie particolare cospito, non può essere una fattispecie particolare cospito. Parliamo di cospito, questa vicenda, diciamoci la verità, fino a un mese fa nessuno sapeva chi fosse cospito. E ti aggiungo, nessuno sapeva che ci fosse ancora strisciante nel paese una piccola o grande frangia di anarchici. Aspetta, posso dirti quello che penso in maniera brutale? Il concetto di anarchia dal punto di vista politico ideologico va rispettato, nel senso che comunque è un pezzo della storia della civiltà umana che comunque ha la sua dignità di esistere e di rendere una cosa, ma cospito secondo me non rappresenta l'anarchia, rappresenta una follia criminale che poi si ammanta di un pensiero politico che è deformato, questo per definire il personaggio. Scusami Piero. Io non sono anarchico ovviamente, però rispetto a tutti. Però, come dire, la questione revisione del 41 bis sollecitata, da una misura estrema quale lo sciopero della fame di cospito, che è un anarchico e quindi non passa per… Eh, però metteva le bombe, cospito, che vuol dire. Non ha finito, non ha ucciso nessuno, ma metteva le bombe nelle città. L'hai detto tu, l'anarchia tutto sommato non è una cosa su quale tu vai con Panzer o con… a ventre a terra. Ma cospito, diciamo, non è come dire… Quindi ha un'alea tutto sommato sostenibile che fa diventare questa battaglia come una sorta di cavallo di Troia. Cioè una sorta di tentativo… Però sai che… Un virus, bravo. Un virus… Tu sei un esperto delle storie di Cosa Nostra che si intrecciano con il Paese. Io ho una bruttissima sensazione. Probabilmente è una mia deformazione mentale di vedere sempre un pensiero viciano, no? Corsi e ricorsi storici. Ma com'è possibile che ogni volta ci troviamo a delle grandi svolte nel Paese? Mi riferisco alla cattura di Messina e Denaro, a questa presunta trattativa, a cui non credo De Graviano, e com'è che ogni tanto spunta l'anarchico, no? Cioè nella storia di questo Paese a un certo punto ti mettono il personaggio un po' borderline, c'è il Bellini della trattativa Stato-mafia, poi ti spunta quello che è legato ai servizi segreti e diciamoci la verità, lo Stato degli anarchici conosce vita, morte, miracoli e parentele fino alla settima generazione. Com'è possibile che si sia scivolati in una vicenda così grottesca? Perché ha dei toni, rispetto per la vita di cospita, speriamo che comunque non abbia conseguenze del suo sciopero della fame, ma è una vicenda che ha dei toni grotteschi dal punto di vista politico. Ma soprattutto io dico dei toni grotteschi se tu poi pensi che tutto sommato crei un precedente. E' chiaro che non puoi fare di tutto un altro passo. Ma non è che diciamo, come dire, di rimbalzo poi è per parlare, questa cosa succede affinché si parli di 41 bis, non con i canoni dell'ostigma mafiosa. Io ho detto come te, questa è una manipolazione, per me è una realtà che stiamo vivendo. Se lo sciopero della fame per il contro del 41 bis l'avesse imbastita, l'avesse messa in campo un nome noto di Cosa Nostra, già non se ne parlerebbe più e sarebbe argomento chiuso. Poiché lo fa uno di cui non sappiamo nulla, che non ha ucciso nessuno ma che si è permesso di fare qualche attentato, che è anarchico e quindi non è uno di quelli cattivi, cattivi, cattivi con cui ce l'abbiamo per partito preso, che sono marginali e che non hanno tanti contatti col mondo esterno, fa assumere alla questione cosmo, fa assumere la breccia il cavallo di Troia. Ma com'è possibile che esponenti del PD talmente esperti, se non sbaglio ci è andato a trovarlo in carcere anche l'ex ministro della giustizia? Ho capito male. No, non hai capito male, devo dire che i toni utilizzati da entrambi le parti stanno legittimando reciprocamente la discussione su cospito, deviando dalla questione originaria che è il no al 41 bis e quelle opportune integrazioni e modifiche che non debbono in alcun modo intaccare e svilire il 41 bis, ma che devono riportare nell'alveo alcune cose che non possono durare per 30 anni e quindi vanno ulteriormente gratificate, né tantomeno vanno estese agli scafisti o ad altri limiti. Però ci sono vicende di scafisti dove io sinceramente credo che anche in quel caso la misura estrema potrebbe essere necessaria, almeno all'inizio del periodo di detenzione, perché anche se l'ipo il concetto di scafista è molto labile. Scusami, però io voglio dire, un altro elemento. Ti faccio un esempio per capire perché il 41 bis in quel caso potrebbe funzionare. È capitato molte volte che all'interno delle carceri italiane si siano verificati dei fenomeni di radicalizzazione islamica. Anis Henry, l'attentatore di Parigi di cinque anni fa, passò alle carceri italiane, venne radicalizzata e poi andò a fare la strage al mercatino. La domanda che ti pongo è, io immagino che dal carcere possono partire direttive, ordini reprimende sul fronte di Cosa Nostra, perché un po' conosciamo come funziona, quindi sappiamo il messaggio in codice, il libro che arriva, la scala, la catena di comando, il controllo del territorio, ma che dal terrorismo islamico, dagli scafisti, dai reati... La complessità di quel mondo. Però ti faccio un esempio, questo livello di comunicazione un po' sotterranea, questo codice esoterico della mafia, in realtà Matteo Messina Denaro ci lo sta sbattendo in faccia, perché quando nomina la nipote è come... Cioè, quello non è un modo per scafiscare. Ci dovremmo porre anche un problema, perché nello stesso momento in cui tutti noi ci facciamo forti, a ragione, con autorevolezza, al di là delle appartenenze politiche, il 41bis non si tocca. Poi arriviamo a dover registrare il nostro malgrado che con l'ordinamento giudiziario che c'è in questo paese ti può anche essere consentito dal recluso sottoposto al 41bis di avere un avvocato che è legato a te da sentimenti di sangue e da sentimenti di affetto e che bypassa tutti i 41bis del mondo. Poi è chiaro che il legale deve avere la sua etica e deve rispondere ad alcuni principi, però è pur vero che diventa un virtualmente, potenzialmente, un ottimo... Un messaggero. Un ottimo... Beh, diciamo, l'avvocato in questione è già scivolato un paio di volte. Un ottimo interlocutore per trasferire la voce del carcere al di là delle mura vicinte. Ed è chiaro che questo ci fa capire quanto siano permeabili, quindi quanto serva ancora il 41bis e che metterlo in discussione, seppur sotto mentite spoglie con la questione cospito, è una questione che fa male al Paese e quindi bisogna parlarne per riconfermarne l'attualità, non le estremizzazioni, non le esagerazioni, ma tenerlo in vita per i buoni frutti che è dato fino ad ora e soprattutto per il rischio che ci possono essere piccole sorture giuste, nominare il legale è una delle prerogative... Tutto è migliorabile. Tutto è migliorabile, è chiaro. Però, torniamo un attimo un passo indietro, si parla di 41bis, si parla del regime carcerario, sempre però dalla prospettiva di che è recluso. Onestamente, l'altra parte della luna non si occupa quasi mai del fatto che in Italia non ci sia una politica di edilizia carceraria o che si afferma da tanti anni, le condizioni in cui vivono le donne e gli uomini della polizia penitenziaria si raccontano di pestaggi, di suicidi, insomma, e quello è un mondo a te molto vicino perché il tuo papà faceva parte di quella struttura. Debo... Ma com'è possibile occuparsi sempre del peccatore e mai, come dire, di chi deve mantenere in custodia? Di chi deve vigila. Debo dire che tu mi, come dire, colpisci il mio cuore perché... Per debito d'affetto nei confronti di mio padre mi è capitato in questi 40 anni in cui lui non c'è stato più di seguire la sorte di questi uomini e donne... Ma sono te molto vicini, insomma. Di questi uomini e donne che dapprima erano con una divisa grigio-verde e ora hanno una divisa blu-intensa e che hanno cambiato completamente connotazione sociale. Ricordavo poco fa che qualche mese prima dell'omicidio di mio padre degli agenti, dei carabinieri cadevano sotto il fuoco di Cosa Nostra sulla circondazione perché stavano trasferendo ferlito da un carcere all'altro, il boss catanese. Oggi questo servizio lo fanno gli uomini e le donne della polizia... della penitenziaria, fanno tutta una serie di attività di grandissimo pregio e di grandissimo rilevo e di grandissima utilità per il paese oltre che a intestarsi l'attività di controllo e di vigilanza sul carcere. È chiaro che sono diventata ben altra roba, però purtroppo, come dire, se ne parla troppo poco e se ne parla solo in alcune circostanze come questa. O quando muore qualcuno. O quando muore qualcuno, quando qualcuno entra dentro le patrie galere e quindi bisogna capire come funziona questo sistema di cui nessuno conosce a mena dito come funziona. Un dato e poi ci arrivo. Un'altra delle... Io penso che dietro il 41 bis, dietro il carcere duro, c'è anche uno strumento per arrivare ad una possibile collaborazione da parte di chi è dentro le carceri. Oggi, in queste ore, Don Luigi Ciotti da Pescara dice che Matteo Messina Denaro si deve convertire e deve collaborare con la giustizia. A giudicare dagli audio che abbiamo sentito mi sembra abbastanza improbabile. Io non lo so se lo farà mai, e questo non significa ovviamente perdono, però io non lo so se lo farà mai, ma in un contesto nel quale tu hai una sofferenza fisica perché sei gravemente malato, sei nel carcere duro, in situazioni abbastanza ristrette, tendenzialmente si potrebbero determinare tutte quelle condizioni che ad una persona normale la fanno mollare e cedere. È chiaro che qui non parliamo di una persona... Vabbè, diciamo qua dia un po' sulla pressione. Totò, ti ringrazio. Io, diciamo, ti ringrazio per... rapidamente ho chiesto questo tuo intervento perché è necessario fare sentire una voce purtroppo autorevole, in questo caso devo mettere il purtroppo, sul 41 bis per le tue vicende personali, per il sacrificio del tuo papà. E io, nel ringraziarti per averci dato la possibilità di raccontare questo punto di vista, ti abbraccio, ti saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Talk Sicilia. con te e un saluto ai nostri spettatori.